Quali sono gli obiettivi che Aria si pone da qui in avanti e che si è posta in passato? Aria innanzitutto vuole promuovere il benessere degli adolescenti che abitano la città. Questo lo fa attraverso diverse azioni. In primis fornisce ascolto, quindi per noi è molto importante dare ascolto a quello che i ragazzi sentono, pensano e desiderano. Questo avviene attraverso un ascolto psicologico nel centro di ascolto di Via Giolitti e invece avverrà con un ascolto diverso, più partecipativo, più anche di animazione educativa negli spazi reali, questo nuovo luogo. Però le parole chiave di Aria possono essere ascolto, accoglienza e orientamento. Quali sono le iniziative che si intendono portare avanti con questo nuovo progetto di Spazi Reali? Allora, Spazi Reali sarà un luogo che innanzitutto potrà essere abitato dai ragazzi come più lo desiderano. Quindi qua potranno trovare dei giovani professionisti che potranno informarli su tutte le iniziative presenti sul territorio di Torino, potranno orientarli, accompagnarli anche a fruire di queste risorse, potranno trovare dei laboratori di partecipazione, potranno portare le loro idee e quindi proporre nuove attività e nuovi laboratori e potranno anche solamente passare per stare insieme, fare due chiacchiere tra di loro o con gli educatori presenti. Quindi è un luogo aperto alle possibilità. Va bene, grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie a voi.